La polizia arriva a sirene spiegate quando comincia il fuggi-fuggi generale. Un'altra violenta rissa scoppiata in piazza San Michele, stavolta due uomini di 44 e 52 anni, uno dei quali già colpito dal daspo urbano, sono finiti in manette. La polizia li ha rintracciati nelle vicinanze poco dopo i fatti di ieri sera. Messi alle strette hanno cercato di sottrarsi al controllo ma sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale. C'è voluto poco per aggiungere una denuncia a piede libero per rissa. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate in zona li hanno inchiodati entrambi.